La scadenza è per il prossimo 28 di febbraio, termine ultimo per versare la rata prevista dall'Agenzia delle Entrate per la rottamazione delle cartelle. Sono un milione di italiani che hanno aderito all'agevolazione e di questi quasi la metà risiedono tra Lazio, Campania e Lombardia. Attenzione, perché chi non paga, ricorda l'Agenzia, perde i benefici. E in tema di regime fiscale emergono dubbi sui provvedimenti del Governo che, secondo gli esperti, generano una pressione iniqua e quasi insostenibile. Per chi dichiara tra i 40 e i 55 mila euro, l'aliquota marginale IRPEF è al 38% e, aggiungendo poi le addizionali, si va ben sopra il 40% di pressione fiscale. Secondo i commercialisti, ad esempio, siamo di fronte a una vera e propria attività espropriativa del ceto medio e di questo non può non tenere conto la riforma fiscale di cui tanto si parla. Il taglio delle tasse che scatterà a luglio per i lavoratori dipendenti, pur garantendo vantaggi alle fasce più deboli, rende iniqua dunque l'imposizione fiscale. Anche secondo l'ufficio di bilancio, il massimo vantaggio dei nuovi sgravi sarà per i redditi compresi tra gli 8 mila e i 40 mila euro. Rimangono invece penalizzati gli incapienti, cioè quanti guadagnano meno di 8 mila 150 euro e poi quelli che, come abbiamo visto, dichiarano tra i 40 e i 55 mila. Altro problema, poi, è quello relativo alle famiglie monoreddito. Il taglio del cuneo fiscale, infatti, finisce per premiare, in modo più incisivo, le famiglie con due redditi piuttosto che quelle dove a lavorare è una sola persona. Con un reddito familiare di 55 mila euro anui lordi, il vantaggio fiscale di una coppia con due redditi rispetto a chi ne ha uno solo e di circa 7 mila euro.